Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca. Sono stati arrestati i presunti rapinatori della figliale della Banca del Fucino in Piazza Salotto a Pescara. Rapina che è avvenuta ieri, un'azione lampo, quella dei carabinieri che hanno fermato subito dopo la rapina due malviventi di origini pugliesi, il servizio di Paolo Renzetti. E' stata anche la collaborazione preziosa dei cittadini a permettere ai carabinieri della compagnia di Pescara di bloccare due giovani di Cirignola, presunti rapinatori, poco prima della loro cattura in spiaggia presso la filiale di Piazza Salotto della Banca del Fucino, recuperato dai militari dell'arma anche il lebbottino. E' stata una brillante operazione svolta dai carabinieri della stazione di Pescara Scalo che grazie appunto come dicevamo alla collaborazione di alcuni cittadini sono riusciti a prendere questi rapinatori che hanno rapinato un istituto di credito in centro in Piazza Salotto, armati di taglierino, in tempi veramente brevissimi. Parliamo proprio di dieci minuti, un quarto d'ora dall'evento criminoso. Fondamentale è stata appunto la collaborazione della cittadinanza che si è messa a disposizione dei militari che stavano cercando questi delinquenti e hanno indicato loro la direzione, il luogo dove si sono poi cambiati. Loro si erano fondamentalmente confusi con i bagnanti della spiaggia proprio per sfuggire alle maglie della legge. Invece è stata fondamentale la collaborazione di non solo cittadini che erano lì utenti della spiaggia ma anche di un maresciallo che era lì in vacanza e che vista la situazione si è messo a disposizione e ha collaborato con i nostri militari. È stato un intervento delicato perché insomma cercare di prendere due rapinatori in una spiaggia affollata certamente potrebbe generare qualche perplessità e qualche dubbio. Invece i militari sono stati veramente eccezionali, sono stati professionali e hanno saputo gestire l'emergenza in maniera molto corretta. Quindi i bagnanti si sono accorti però insomma non hanno penso avuto più di tanto molti timori. Ovviamente le indagini non si interrompono, stiamo esaminando diverse opzioni, stiamo vedendo se ci possono essere altri collaboratori, altri che hanno fiancheggiato questi due rapinatori o se si tratta magari di una incursione di questi due cerignolani. Terza misura di stalking in soli tre giorni in provincia di Teramo. A finire in manetta questa mattina un 56enne di Martinsicuro arrestato dai carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Antonio Romano su ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP Derenzis su richiesta del PM Aloisi. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un periodo compreso tra marzo e giugno di quest'anno e si sarebbero verificati tra Martinsicuro, Albadriatica e Tortoreto. Secondo gli inquirenti il 56enne dopo la separazione dalla moglie avrebbe iniziato una vera e propria caccia alla ex, perseguitandola con sms e telefonate insistenti, inseguendola nei posti da lei frequentati e aspettandola sotto casa, minacciandola anche di morte. Una situazione diventata insostenibile con la donna che dopo essere stata anche schiaffeggiata dall'ex marito ed essere finita al pronto soccorso ha deciso di denunciarlo, così per l'uomo al termine delle indagini è scattato l'arresto. Una notizia che ci riporta al dramma dell'omicidio dell'oncologa Esther Pasqualoni. Ebbene questa mattina a Pescara è stato consegnato un premio alla memoria nell'ambito del premio Donne d'Abruzzo, il servizio. Consegna dei premi Arcolaio d'Abruzzo questa mattina a Pescara, Geremia Mancini. Non è mancato un pensiero, un ricordo per la dottoressa Esther Pasqualone, morta due settimane fa in circostanze tragiche nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero. Sì, non solo non è mancato il ricordo, ma oggi abbiamo avuto anche l'onore della presenza della figliola più piccola, Nausicaa, e dell'avvocatessa. Ma a Esther è andato il premio, perché purtroppo ha la memoria, che ci fa onore, onore al premio. Questo premio che io ricordo nasce nel 2006 e vide premiata per la prima volta Filomena Memena degli Castelli, a seguire una infinità di eccellenze abruzzesi al femminile, di cui l'Abruzzo intero deve essere orgoglioso. Oggi qui a Pescara non è mancato un ricordo della dottoressa Esther Pasqualone, lei il suo avvocato, una cerimonia toccante a cui ha partecipato anche la figliola della dottoressa. Sì, sono stata contentissima che sia venuta lei, perché è lei che doveva venire a ritirare questo premio giustamente attribuito alla dottoressa Adester. Doveva essere la figlia e ringrazio Geremia Mancini per averci portato qui. È giusto non spegnere le luci su questa tragedia, una tragedia che ha colpito, che ha scosso tutta l'opinione pubblica, non solo abruzzese ma italiana. Assolutamente, vorrei che questa cosa non venisse dimenticata dopo domani, vorrei che si lottasse anche grazie a queste associazioni, perché forse solo grazie a queste associazioni possiamo riuscire a far sentire la voce, la voce delle richieste di aiuto, gli urli per cambiare le cose, solo grazie a queste associazioni. Dopo la separazione dalla moglie era tornato a vivere dai genitori, una convivenza però difficile fatta di continui maltrattamenti nei loro confronti. Maltrattamenti per i quali ieri pomeriggio un 44enne di Roseto degli Abruzzi è finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Teramo. All'uomo vengono contestate anche le lesioni personali aggravate dall'ubriachezza abituale. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini il 44enne in più occasioni spesso in preda all'alcol avrebbe minacciato e picchiato i genitori che alla fine, stanchi dai continui soprusi, si sono rivolti ai carabinieri. Sempre ieri pomeriggio i carabinieri di Giulianova hanno denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia un 44enne del posto a chiamare i militari. L'anziana madre è stanca di subire violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio con problemi di tossicodipendenza. Il 44enne è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Giulianova. Paura? Ieri sera a Montesilvano per un incendio in collina che ha lambito delle case. Evacuate tre famiglie, altre 20 famiglie si sono allontanate volontariamente. Le fiamme sono state domate nel corso della notte. ad originare il rogo l'imprudenza di un 61enne che è stato denunciato per incendio boschivo colposo. E' stato domato definitivamente alle prime luci dell'alba il vasto incendio di Vampato nel tato pomeriggio di ieri a Montesilvano sul cosiddetto Colle della Giovane alla fine di Via d'Azeglio. Sono stati momenti di paura visto che le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni essendo quella una zona residenziale. Il fuoco ha lambito alcune villette e si è temuto anche il peggio con diversi abitanti che sono scesi in strada ed hanno seguito con apprezzione le operazioni di spegnimento, peraltro non semplici. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di Polizia Municipale e Carabinieri. Presente anche il sindaco Francesco Maragno che ha attivato il COC, il centro operativo comunale per la gestione dell'emergenza e ha disposto all'evacuazione di tre famiglie. Dalle indagini sembra che ad originare l'incendio sia stato un uomo di 61 anni che per ripulire il suo giardino aveva dato fuoco a delle sterpaglie. Il caldo e il vento hanno fatto divampare il rogo. Inizialmente i vigili del fuoco erano riusciti a contenere le fiamme e ad evitare che raggiungessero le case. Il fronte dell'incendio poi, sempre a causa del vento, si è nuovamente steso minacciando altre abitazioni. Nella notte le fiamme sono state spente e i vigili del fuoco hanno potuto rimettere in sicurezza la zona. Il 61enne, dopo essere stato interrogato dai carabinieri di Montesilvano, è stato denunciato per incendio boschivo colposo. Il problema dello smarrimento dei documenti d'identità è stato al centro della conferenza stampa che è stata indetta dai carabinieri. In due anni e mezzo oltre il 10% dei pescaresi ha presentato denuncia. Alfredo Primante. 6.926 è questo il numero delle denunce di smarrimento documenti raccolte dai carabinieri di Pescara nel solo 2016 con un trend che non accenna a diminuire anche nel 2017. Vengono smarrite carte di identità per lo più ma anche passaporti, patenti di guida, certificati di proprietà e carte di circolazione dei veicoli oltre a smartphone e carte di credito. Tutti documenti contenenti dati sensibili, ai quali bisognerebbe prestare la massima attenzione che invece troppo spesso vengono dimenticati e non rubati. Per questo i carabinieri invitano a denunciare solo quando si ha la certezza di non riuscire più a trovarli. Se i giovani denunciano smarrimenti per distrazione, con l'aumentare dell'età i documenti spesso vengono ritrovati a poche ore dalla denuncia, magari in casa, creando così un aggravio di lavoro per i militari dell'arma. Al di là di tutto, i carabinieri sottolineano come si debba prestare la massima attenzione ai propri documenti personali, anche per non diventare ignari i protagonisti di reati quali truffe online o insolvenza fraudolenta. Occhio quindi a non farsi rubare l'identità dalla delinquenza comune. Solo una piccola percentuale dei documenti, infatti, finisce nelle mani della criminalità organizzata. L'attività che più comunemente viene praticata attraverso il documento o rubato o comunque acquisito perché ritrovato in quanto smarrito è sicuramente quello delle truffe online. C'è il rischio che il truffatore si impossessi anche dell'identità di altre persone e avvalendosi appunto di questa fittizia, di queste fittizie generalità o meglio di queste generalità reali che lui si attribuisce e faccia ricadere poi su un altro le responsabilità che sono proprie. Una stanza del buco all'ospedale di Pescara dove sono state rinvenute siringhe, ricette abbandonate e altri rifiuti. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che ha chiesto l'intervento del NAS e ha chiesto anche le dimissioni del direttore generale della ASL. Paolo Renzetti. Una stanza del buco all'interno, nel perimetro del vecchio ospedale civile di Pescara in via Polini, a due passi dalla sede della direzione generale. Questa è la scoperta che ha fatto lei, consigliere Pettinari. Questa mattina ha mostrato delle foto, anche un video di una situazione sicuramente non edificante. Sì, nell'esercizio delle mie funzioni di sindacato espettivo mi sono imbattuto in una dei miei ultimi sopralluoghi in questa situazione terrificante, allarmante. È un'area aperta al pubblico, è un'area dove abbiamo trovato ricette rosse con prescrizioni, con tanto di timbro del medico, firma, dicitura della prestazione prescritta e nome del paziente abbandonate, lasciate così in abbandono, una montagna di ricette. Abbiamo trovato siringhe usate, sporche di sangue, fazzoletti sporchi di sangue, lacci emostatici, tutto così lasciato alla luce del sole. Abbiamo trovato delle biciclette abbandonate, abbiamo trovato tante altre situazioni terrificanti. Ecco, non è possibile che in un ospedale civile, sotto tra l'altro gli occhi vigili di telecamere installate con tanto di dicitura zona videosorvegliata si possa consumare una cosa del genere. È anche il fenomeno sociale allarmante perché l'ospedale dovrebbe prevenire e curare le tossicodipendenze e troviamo una situazione del genere, a pochi metri dalla direzione generale. Per questo io ho chiesto oggi le dimissioni del direttore generale di fronte a questo. È l'intervento dell'organo regionale che l'ha nominato. Perché non si può andare avanti. Ho chiesto l'intervento dei NAS pubblicamente, lo sto chiedendo, perché è una situazione che va bonificata e va immediatamente ristrutturato quel palazzo. Servono palazzi ristrutturati all'interno dell'AS. Poi pensano ad acquistare palazzi esterni spendendo 3 milioni di euro quando abbiamo edifici di proprietà. Ecco, tutto questo va fatto, va fatto in tempi brevi, ma non è più concepibile avere delle situazioni del genere all'interno dell'ASI Pescara. A stretto giro di posta è arrivata la replica del manager dell'ASI di Pescara, Armando Mancini. Voglio dire al consigliere Pettinari che il vero dramma della tossicodipendenza non sta nel fatto che le persone scelgano angoli nascosti, non accessibili per andarsi a bucare, ma nel fatto che la gente si buchi. Faremo immediatamente pulire quella zona in cui il suo potere ispettivo lo ha portato e che va precisato, si dice sempre nella nota, è interdetta e chiusa dal pubblico con cancelli e recinzione. Abbiamo da tempo avviato una bonifica delle aree del vecchio ospedale, abbandonate da anni con ripristino della pulizia, del decoro dei giardini e delle fontane. Chiunque se vuole può venire a vedere. Per quanto riguarda l'immobile di via Rigopiano è noto che c'è un'indagine della magistratura in corso e ne attendiamo l'esito. Ha dato ottimi risultati la sperimentazione della raccolta differenziata a Montesilvano Colle. L'amministrazione comunale ora punta ad estendere il servizio su tutto il territorio cittadino. Sindaco Maragno, parliamo di raccolta porta a porta, raccolta differenziata a Montesilvano Colle. Possiamo dire che questo progetto che avete voluto fortemente è partito già con grandi risultati e con percentuali che arrivano quasi a sfiorare il 90%. Stiamo lavorando, programmando il sistema di raccolta porta a porta spinto su tutto il territorio. Dopo la sperimentazione che ha portato all'87,5% in solo i 50 giorni per 300 utenze, adesso allarghiamo il sistema di raccolta a altre 2.100 utenze, tutta la collina di Montesilvano, per poi nel giro di un anno estenderlo ulteriormente a tutto il territorio cittadino. Avevamo buone aspettative ma non immaginavamo di arrivare al 90%, è un risultato straordinario che ci sprona a fare ancora di più, ancora meglio, ma il primo in assoluto è quello del rispetto dell'ambiente e sicuramente una migliore qualità della vita. Poi arriveranno anche i vantaggi da un punto di vista economico che noi intendiamo riversare soprattutto sui cittadini e ci auguriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Continueremo con questa distribuzione dei mastelli, ricordo che toglieremo il servizio stradale, quindi i cassonetti messi lungo la strada e consegneremo a ogni famiglia un kit di 5 mastelli diversi per colore dove l'utente potrà conferire una tipologia di rifiuto. Le tipologie da differenziare quindi sono l'organico, il vetro, la carta, la plastica insieme al metallo e poi il secco residuo, il mastello di colore grigio dove andrà quello che non si può mettere negli altri 4 mastelli. 9 comuni dell'area Frentana hanno sottoscritto la convenzione per la messa in atto dell'ECAD, il nuovo ente d'ambito per la programmazione e lo sviluppo delle politiche sociali. Disabili, minori, anziani, ogni comune ha i propri bisogni specifici ma insieme attraverso il nuovo ECAD, l'ambito distrettuale nato dalla riforma degli enti d'ambito sociale, cercheranno di ottimizzare la programmazione dei servizi offerti su un territorio ritenuto più omogeneo. A Lanciano, ente capofila dell'ECAD numero 11, i sindaci di 9 comuni hanno sottoscritto la convenzione per Fossa Cesia, San Vito Chietino, Frisa, Castelfrentano, Santa Maria in Baro, Treglio, Mozzagrogna e Rocca San Giovanni, oltre al capoluogo Frentano. Le finalità del nuovo ente sono state illustrate dall'assessore alle politiche sociali di Lanciano Dora Bendotti. La rimodulazione delle aree territoriali è stata fatta tenendo conto dei distretti sanitari e dei piani d'ambito. Non aumenteranno le risorse destinate al sociale, è stato sottolineato dai diversi sindaci, ma ciò che conta è una programmazione più attinente alle esigenze territoriali e all'interno dello stesso ECAD è stata fatta una seconda suddivisione. L'ente d'ambito distrettuale 11 ha accolto la proposta che Anciabruzzo ha portato in regione, cioè quella di dividere l'ECAD in due zone di gestione, quindi zona 1 e zona 2. La zona 1 è rappresentata solo e unicamente dal comune di Lanciano, la zona 2 invece sono tutti gli altri 8 comuni che comunque fanno capo a Fossa Cesia. Questo perché? Perché chiaramente le differenze e soprattutto i bisogni sociali dei territori sono diversi, quindi permetterà ad entrambe le zone di lavorare nel rispetto delle esigenze, ma sempre comunque rispettando quella che è la delineazione regionale, quindi di un unico ambito sociale. La Facoltà di Bioscienze Alimentari dell'Università di Teramo sta portando avanti importanti studi sulla classificazione dell'olio grazie al naso elettronico, uno strumento fondamentale presentato alla stampa nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Ateneo Terramano i venerdì del gusto. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Un naso speciale per giudicare la bontà dell'olio di oliva. All'Università di Teramo il gruppo di ricerca della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari, diretto dal professor Dario Compagnone, sta studiando un modo semplice e rapido per classificare i campioni di olio utilizzando un naso elettronico. Il naso elettronico, ma che cos'è? Il naso elettronico è un insieme di sensori a gas che ricorda in qualche modo il funzionamento del naso umano chiaramente molto meno complesso del nostro naso e che utilizza questi sensori insieme a delle tecniche statistiche per riconoscere determinati campioni e quindi per dare delle informazioni, nel nostro caso, sulla qualità o sulla tracciabilità di prodotti alimentari in particolare si può utilizzare per l'olio d'oliva. Che cosa annusa nell'olio d'oliva? Ma annusa l'olio d'oliva, nonostante sia abbastanza semplice, riconosciuto e conosciuto, sostanzialmente in quello che si chiama lo spazio di testa, quindi nella parte aerea dell'olio. Nell'olio ci sono presenti dei composti volatili che possono dare informazioni sia sul contenuto statutistico ma soprattutto sulla storia del prodotto. Questo naso viene quindi usato sui campioni di olio per riconoscere difetti e individuare la storia di ogni singolo prodotto. In pochi minuti di sniffing elettronico si ottiene una perfetta classificazione del campione. Quali sono gli elementi che ci fanno dire, anzi che vi fanno dire, questo è proprio un buon olio? Beh, l'olio va naturalmente assaggiato, quindi oltre alle caratteristiche chimiche che di fatto vengono fatte in laboratorio, l'olio extravergine di oliva è l'unico prodotto che per poter avere un'indicazione merce logica, quindi per poter scrivere sulla bottiglia olio extravergine di oliva, deve essere accompagnato anche da un'analisi sensoriale. C'è un panel di esperti, quindi naturalmente ci sono degli esperti che vanno a provare l'olio, in primis con il naso e in secondo luogo attraverso l'assaggio vero e proprio. Voi siete degli scienziati, però per una casalinga come fa a provare a capire che l'olio è migliore di un altro? L'olio extravergine di oliva per essere un buon olio deve sapere proprio di frutto, quindi deve avere le caratteristiche del prodotto di partenza, quindi delle olive, deve sapere di oliva, deve sapere di verde, ci sono degli attributi positivi, c'è proprio un vocabolario che definisce l'olio, quindi... E' meglio l'olio vecchio o l'olio nuovo? L'olio nuovo. Oggi e domani si tiene a Pescara l'evento Pescara Comic Con, che dedicherà anche una raccolta fondi alla Adricesta Onlus per il progetto Arredi Pediatria. Nei giorni scorsi organizzatori e fumettisti hanno visitato la sede dell'associazione e i piccoli degenti dell'ospedale di Pescara. E' un primo step, io mi auguro che ci siano in futuro altri appuntamenti, perché è una cosa bellissima portare i protagonisti dei fumetti amati dai bambini, perché poi in definitiva i protagonisti sono loro, perché sono loro che attraverso la magia della loro arte riescono a donare immagini che fanno sognare i nostri bambini e che hanno fatto sognare tutti noi. Una giornata felice, gioiosa, che però ha sempre uno sguardo per la solidarietà, che poi è quello di raccogliere fondi per il progetto Arredi Pediatria. Un progetto molto ambizioso, di circa 140 mila euro, che significa rinnovare in toto la pediatria di Pescara, anche con dei disegni che rimarranno nel cuore di questo reparto, perché faremo un pannello che verrà poi esposto dentro l'ospedale, ringraziando tutti i fumettisti e Pescara Coming Convention per questa grande donazione che hanno fatto. L'occasione è proprio quella di portare un momento di gioia, di respiro e di condivisione e anche con chi in questo momento è un po' meno fortunato, ma soprattutto è quella di creare questa rete che ci permette di crescere tutti come società, come città, insieme. Ci sarà un evento molto molto importante questo weekend a Piazza Salotto durante il Pescara Coming Convention, che sarà un contest con tutti gli ospiti disegnatori a livello nazionale che saranno presenti. Verranno realizzati dei totem con dei disegni particolari che poi verranno messi all'asta e alcuni verranno donati proprio al reparto. Apriamo la pagina dello sport. Ore di grande fermento per il mercato del Pescara, che rischia di perdere l'attaccante Simone Andrea Gans dopo l'inserimento nella trattativa del Palermo. Svolta anche per la cessione di Coulibaly, lunedì è previsto un incontro con l'Udinese che a sorpresa può battere la concorrenza di Inter, Juventus e Genoa e accaparrarsi il gioiellino senegalese. Il Palermo entra gamba tesa nell'affaire Gans e rischia di soffiare il centro avanti al Pescara. Sono le stranezze del mercato dove tutto può accadere finché non ci sono le firme. La società biancazzurra può sempre contare sulla volontà del giocatore che ha rifiutato la destinazione Ascoli, preferendo Pescara, per essere al centro del progetto di rilancio del Delfino e giocare in una squadra che con Zeman è votata l'attacco. Insomma, Gans in rival adriatico potrebbe fare grandi numeri dopo i soli quattro gol di Verona in una stagione da vice Pazzini. L'inserimento del neo-DS del Palermo Fabio Lupo può però scompaginare questi piani per il blasone della società siciliana ed anche perché il Palermo stesso potrebbe assecondare le richieste della Juventus che per il cartellino di Gans chiedeva 2 milioni di euro mentre il Pescara contava di chiudere sul milione e mezzo, pagabile in tre annualità. Ieri, dopo l'inserimento dei Rosanero, c'è stato un incontro tra la Juventus e la gente del centro avanti, Davide Lippi. Le prossime ore saranno decisive. Dovesse sfumare Gans e il presidente Sebastiani avrebbe un problemone in più individuare un nuovo centro avanti da consegnare al tridente di Zeman quando il più sembrava fatto e le attenzioni si stavano semmai spostando sul cambio di Gans con le piste Tuminello della Roma e Cappelluzzo del Verona sempre vive. Altro colpo di scena ha a che fare con Mamadou Koulibaly. Sembrava fatta con l'Inter ma la volontà del ragazzo è quella di proseguire il percorso con una prima squadra dopo aver debuttato in A. All'Inter avrebbe fatto la primavera disputando la Youth League. Allora frenata Inter e inserimento a sorpresa dell'Udinese con tanto di sorpasso a Juventus e Genua. Accordo quasi fatto con il club di Pozzo con cui lunedì ci sarà un incontro che potrebbe portare all'ok definitivo. Il Pescari incasserà quanto ha sempre chiesto per il gioiellino senegalese 4 milioni, 2 di parte fissa più 2 di bonus. A proposito di partenze, l'Avellino ha chiesto il portiere Mirko Pigliacelli di rientro dal prestito di Trapani. Dovesse partire resterà in bianca-azzurro Vincenzo Fiorillo. Resta forte l'attenzione del Benevento su Memushai mentre ha la valigia pronta Cristiano Biraghi su cui sembra aver virato decisamente il Chievo che nei giorni scorsi sembrava invece preferire l'ipotesi Zampano. Quest'ultimo invece può essere un obiettivo dell'Atalanta una volta definita la cessione di Conti al Milan. Scaduto ieri il termine ultimo per le società di Serie C per presentare la domanda di iscrizione. Nessun problema per il Teramo ma come di consueto è un'estate all'insegna della corsa contro il tempo per alcuni sodalizi che hanno grosse difficoltà economiche. In casa maceratese Catanzaro inoltre anche il cambio di proprietà. Jacopo Forcella. La prossima Serie C ad oggi ha 58 squadre. Ieri infatti la scadenza per presentare la domanda di iscrizione e tutte o quasi sembrano avercela fatta nonostante i problemi economici che attanagliano parecchie realtà sportive in terza serie. Ad oggi le uniche due società che non hanno provveduto ad iscriversi al prossimo campionato sono il Latina, il retrocesso dalla B ed è stromesso in seguito al fallimento ed il Como. I lariani dovrebbero ripartire dal torneo di Serie D. Le situazioni più complicate riguardavano almeno 5 sodalizi che più degli altri erano in pericolo. Ce l'hanno fatta invece a presentare la documentazione le pericolanti Mantova, Messina, Maceratese, Acragas e Catanzaro. Per quanto riguarda la formazione marchigiana è stato un vero e proprio colpo di scena a scombussolare i piani della vigilia di iscrizione col passaggio della proprietà. La maceratese infatti passa nelle mani di Claudio Crucianelli ex direttore del settore giovanile insieme all'imprenditore campano Claudio Gliotti. Proprio Gliotti che ha provveduto all'iscrizione. Il problema adesso sarà la partenza d'endicap ovvero la penalizzazione che la maceratese subirà di sicuro per un deficit ancora non ben identificato e che porterà Biancorossi ad iniziare con un meno 3 nella casella dei punti. Ancora più difficile e nebulosa la situazione in casa Mantova. Domanda presentata a Firenze come nei termini previsti ma il rischio crack rimane comunque altissimo. Come la somma che deve essere ripianata si parla di oltre 800 mila euro e che senza l'apporto di capitali potrebbe far sprofondare i virgiliani nel baratro. Anche perché adesso le scadenze saranno ravvicinate. Mercoledì bisognerà presentare in lega la fidei uscione da 350 mila euro pena un altro meno uno in classifica mentre entro venerdì bisognerà ricapitalizzare la società versando nelle casse 850 mila euro pena un altro meno uno. L'11 luglio la Covizoc dirà sì o no alle iscrizioni e in caso di bocciatura la società potrà far ricorso entro il 14 dovendo dimostrare però a quel punto di aver sistemato tutte le pendenze. La cosa certa al momento è che i soldi per completare l'iscrizione non ci sono e quella biancorossa resta una disperata corsa contro il tempo per evitare la sparizione dal panorama professionistico. Insomma queste sembrano essere oggettivamente le due situazioni più drammatiche meno pesanti si fa per dire quello di Messina ed Acragas. Per i giallorossi del presidente Proto tutto sembra essersi risolto rispetto alla rateizzazione col fisco dei debiti e grazie agli accordi trovati con i calciatori per gli stipendi che mancavano da inizio anno. Ma in virtù degli inadempimenti dell'ultima settimana e della recidività dopo i deferimenti e le condanne dei mesi scorsi il Messina è passibile di quattro punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato come hanno ammesso anche fonti dirigenziali. Entro il 5 luglio sarà necessario presentare la fideiussione c'è tempo fino a martedì 11 per sanare tutte le posizioni dei tesserati effettuando i pagamenti concordati e versando i relativi contributi previdenziali. Se la documentazione presentata dovesse risultare carente dopo l'esame della Covizoc ci sarà tempo fino al 14 luglio per il ricorso. Per gli agrigentini invece l'iscrizione consente di avere un po' di tempo per cercare nuovi acquirenti visto che gli attuali presidenti hanno dichiarato di volersi disimpegnare. Il Catanzaro invece volta pagina e lo mette nero su bianco aprendosi ad un futuro che non vedrà più protagonista la famiglia Cosentino ma un nuovo soggetto costituito, come recito a un comunicato ufficiale, dalla noto holding per il 60% e altri soggetti con quote minoritarie. Calabresi che potrebbero partire comunque con tre punti di penalizzazione uno per la mancata corrisponzione degli stipendi fino a maggio ai tesserati, un secondo per il mancato pagamento degli stipendi a figure interne, un terzo relativo alla documentazione dell'incentivo all'esodo. Dunque davvero tante le situazioni difficili nel panorama professionistico con rischio di dover ridisegnare presto la geografia dei campionati. Nessun problema invece per il Teramo, che ha effettuato la procedura di iscrizione e che sarà regolarmente a in asse di partenza. E di questi tempi non è davvero poco. La decisione finale sulle ammissioni al prossimo torneo di terza serie sarà poi ratificata dal Consiglio federale di giovedì 20. Insomma, l'ennesima estate calda per il calcio di serie C sembra essere solamente gli inizi. Ora un ultimo servizio, il Palasport di Via Elettra a Pescara ospita da questa mattina il raggruppamento del campionato nazionale di calcio Balilla per accedere alle finali di novembre a San Vensan. Questo raggruppamento delle finali del campionato italiano di calcio Balilla si tengono in questo weekend a Pescara. Tra le tante formazioni abruzzesi c'è anche una rappresentanza di Avezzano, giusto? Esatto, ce ne sono due. Una proprio è la squadra di Avezzano, si chiama così, l'altra si chiama Castella Fiume e diciamo che della nostra associazione è quella che ha i giocatori più esperti. Gli altri sono venuti per fare esperienza ma sono ragazzi di cui si sentirà parlare sicuramente in futuro perché sono molto agguerrite. Vediamo tanti ragazzi oggi qui a Pescara al Paleletto. Anche ragazze? Soprattutto ragazze e belle oltre che brave ma la cosa importante è che ci siano i giovani perché questo è uno sport in espansione è uno sport che cerca di uscire dal bar per diventare un vero e proprio sport con le proprie regole sia tecniche che etiche e che servirà anche per togliere tanti ragazzi dalla piazzetta, dal bar, dalla nulla facenza per entrare in questo circuito sportivo che è veramente molto ma molto entusiasmante. E il Pescara Calcio Balilla ha tra l'altro il campione italiano di questo sport? Sì, noi siamo gli attuali campioni italiani e sicuramente è un bel evento e siamo contenti perché siamo riusciti a collaborare con tutte queste associazioni quindi sicuramente ci divertiremo. È un invito a tutti. Pescara è una formazione che ospita questi campionati dunque obbligata ad ottenere risultati migliori? Vediamo, noi tra virgolette abbiamo fatto la nostra squadra e vediamo cosa succede. Un campionato italiano che vede tante formazioni provenienti da tutta Italia oggi qui a Pescara. Sì, abbiamo squadre della Campania, del Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo e Marche. Tutti da bambini e da ragazzi abbiamo giocato il bigliardino però questa per voi è una vera e propria passione? Sì, per noi è una vera e propria passione perché io sono 17 anni che sono professionista di Calcio Balilla e seguo la federazione della Calcio Balilla ho conosciuto Simone da più di 10 anni professionista serio come Mirko Placido quindi ho voluto partecipare a questa gara anche perché è merito loro perché sono veramente professionisti in tutti i sensi. È proprio tutto per questa terza edizione del TG6 il nostro notiziario tornerà lunedì alle ore 14 nel frattempo noi vi auguriamo una buona notte e una buona domenica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!